Un'aria accessibile, sicura ed ecosostenibile sono terminati i lavori per la realizzazione dell'aria giochi inclusiva all'interno del parco fluviale di Levane. Questo è un progetto che è nato nell'ambito appunto delle manutenzioni, in quanto c'era da riprogettare e di studiare quest'aria, questo giardino, dove erano presenti giochi faticenti, strutture non più consone, per cui nello scegliere di riprogettare questo giardino abbiamo pensato di sperimentare quello che vengono chiamati giochi inclusivi e quindi un giardino inclusivo adatto sia a bambini con disabilità che non. Questo per favorire chiaramente l'inclusione sia dei bambini che delle famiglie, di favorire appunto la socialità in totale sicurezza. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo regionale di oltre 11.000 euro ottenuto mediante la partecipazione al bando Rigenerazione Toscana. Con il quale abbiamo comprato i giochi, giochi che sono completamente ecocompatibili in quanto sono in materiale riciclato, sono a praticamente manutenzione zero per o meno per molti anni e quindi è un giardino non soltanto inclusivo ma anche ecocompatibile. L'intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dell'aria che costegge il torrente Ambra ed accoglie il parco fluviale. La completeremo anche con un'area fitness, verranno messi degli attrezzi per l'attività fisica anche degli adulti, dei più grandi, però ci sembrava importante partire da questo spazio inclusivo.